E ora vediamo l'andamento del Mondiale di Rally Cross, una specialità molto spettacolare, molto bella, che sta prendendo sempre più piede grazie anche al coinvolgimento delle case automobilistiche a livello ufficiale. Grazie ai due podi conquistati nelle ultime due manche del campionato mondiale FIA Rally Cross, il team Peugeot Hansen è al momento salito in seconda posizione della classifica costruttori. La prossima gara sarà la quinta prova del campionato 2016 e si terrà in Norvegia, a Hell. La scorsa stagione, su questo tracciato, le 208 WRX di Timmy Hansen e The Vision E segnarono una doppietta arrivando in prima e seconda posizione nella finale. Il team principal Kenneth Hansen ha dichiarato «conosciamo bene il circuito, ci sarà da lottare di più rispetto all'anno scorso, ma abbiamo un setup specifico per questo tracciato».